C'eravamo tanto amati, tra Ghirelli e il presidente d'Agostino la simpatia è sincera, radicata e duratura e chissà se resisterà ai colpi di comunicati arrivati in questi giorni. Il primo ad affondare il colpo è stato, come è noto, il numero uno della Lega che durante il match inviò il famoso comunicato contro quelli che definì delinquenti, protagonisti degli scontri. Il passaggio dedicato all'ampliamento della disponibilità del settore ospiti aveva fatto risentire agli avellinesi che con quella frase si erano sentiti chiamati in causa. Da lì la risposta è arrivata ieri da D'Agostino, che ha sottolineato la correttezza della tifoseria erpina alla quale ha fatto eco anche l'intervista rilasciata dal sindaco Gianluca Festa a Radio Punto Nuovo. In un passaggio entrambi hanno sottolineato come le affermazioni di Ghirelli fossero probabilmente un po' azzardate considerando che il numero uno della C non era allo stadio e non aveva ancora il quadro completo della situazione. Ebbene la nuova risposta di Ghirelli non si è fatta attendere. Questa mattina attraverso il sito della Lega Pro ha inviato una sorta di lettera indirizzata proprio ad Agostino e Festa in cui precisa Ho letto le dichiarazioni fatte dopo la mia presa di posizione sui gravissimi fatti successi durante la partita Foggia-Vellino vi assicuro continua che sono profondamente meditate nessun errore a causa di scarsa e rapida valutazione del merito pubblicate dopo attenta verifica con i legali dove si evince e dice che io abbia puntato il dito solo contro la parte Avellino io ho condannato senza sì e senza ma gli atti delinquenziali che potevano arrecare danni gravissimi a bambini, donne, spettatori e allontanano la gente normale dal caccio lo dico chi osa provocatoriamente in forma semplice e comprensibile in modo che ne consegua che ognuno si schieri senza alcuna ambiguità e ancor più senza usare cose non dette dal sottoscritto per poter dire e non dire non una parola a chi gli chiede perché giocare alle 20 e 30 è una partita a rischio e cosa dovrebbero dire quelle stesse famiglie, donne e bambini per essere arrivate allo stadio con mezz'ora di ritardo perdendosi tutti i gol del match ma anche perché il settore ospiti fosse così vicino e tefose di casa perché inoltre non fosse presente una rete non dovrebbe essercene bisogno, ci sentiremo rispondere forse sì, peccato che viviamo lontanissimi da un mondo perfetto e i precedenti lo dimostrano un caro saluto, Francesco Ghirelli, questa la chiosa finale della missiva che inasprisce una crepa decisamente aperta tra il presidente e il suo consigliere di Lega probabilmente chi si aspetta una controleplica dovrà aspettare il commento alle decisioni relative alla chiusura dello stadio che arriveranno nelle prossime ore